Eccoci, la prima puntata è il 2021. Abbiamo partecipato come pensionati alla giornata della pace, abbiamo condiviso l'invito di Papa Francesco che ha dedicato il tema della giornata della pace al tema della cura, perché il mondo sarà in pace se ognuno di noi si prende cura dell'altro, si prende cura della persona, dell'ambiente, del lavoro, è un tema molto importante e in questa puntata daremo anche atto della manifestazione che c'è stata anche a Bologna come tutti gli anni sul tema della pace assieme al Cardinale, Zuppi, assieme a Libera, assieme a tante altre associazioni. L'abbiamo dovuto fare in via telematica, non in presenza per le note condizioni. Ecco, per noi che abbiamo vissuto come pensionati il tempo della guerra, la pace è un valore fondamentale che ci deve guidare nei prossimi anni. Per fare la pace occorre cambiare questo mondo, dare lavoro, creare condizioni in cui l'ambiente sia più vivibile, un nuovo clima, così come recita anche l'accordo che abbiamo fatto con la regione. Noi abbiamo criticato molto la narrativa della guerra anche sul Covid, siamo in guerra, siamo in trincea, dobbiamo combattere. No, se vogliamo curare, dobbiamo curare. Quindi non dobbiamo distruggere. La guerra è la massima distruzione possibile, distrugge non solo le cose, ma soprattutto le persone, il capitale umano, la comunità, i legami, le città. Le città sono le prime vittime della guerra. Quindi ripartire dai portici che invece ti fanno camminare sempre, come è stato detto, è fondamentale. E noi pensiamo che proprio le parole sono importanti, perché è come, riprendendo la metafora sanitaria, è come un medico che deve prima capire che malattia hai per poi curarti. Noi dobbiamo capire in che situazione siamo. E la situazione in cui siamo è una situazione di difficoltà, ma non è di guerra. Chiedete in Yemen, chiedete in Libia, chiedete in Siria, chiedete in molte parti dell'Africa o nel sud-est asiatico, lì conoscono la guerra. Ecco, ricordatevi che la guerra è sempre questo. La guerra non è mai una soluzione. Al massimo fa tabula rasa, no? Come diceva Tacito, fecero un deserto e lo chiamarono pace. No, noi vogliamo una pace che sia accoglienza, che sia diritti per tutti. Negli ultimi anni, spesso e volentieri, alcune parole legate alla pace sono scivolate semanticamente verso altri significati. La sicurezza, che è una parola che serve a tutti, che piace a tutti, ma che è diventata quasi sinonimo del mettere dei muri, no? Veniva richiamato prima all'inizio di questo percorso. Mettere delle distanze, lasciare qualcuno al di fuori. Oppure la difesa, anch'essa, difendere quello che si ha, difendere quello che si è, soprattutto, è importante. Ecco, per questo forse dobbiamo uscire da questi termini che ormai sono un po' ambigui, come può essere ambiguo armarci, no? L'hai detto giustamente tu ed è interessante ragionare sui vari livelli di significato. E quindi prendere altre parole. A noi, ad esempio, in questo periodo, quando dico noi, dico tutte le organizzazioni di rete italiana, pace e disarmo, proprio perché è una riflessione collettiva, non è solo quello che dico io, piace molto la parola salvaguardia. Perché vuol dire guardare gli uni gli altri e salvarsi gli uni gli altri, nel senso di tessere comunità, tessere situazioni che possano migliorare la vita di tutti. Prima, dalle parole dell'arcivesco Zuppi, prendo un elemento che richiama anche la mia vita, no? Una figlia con disabilità. Ma tutti siamo disabili quando, o portiamo una disabilità quando la società attorno a noi non ci permette di esprimerci. Quindi la salvaguardia è proprio guardare gli uni gli altri le debolezze, i punti di forza e costruire una società, una comunità che possa valorizzare i punti di forza e aiutare nelle debolezze. E poi richiama anche la salvaguardia del creato, dell'ambiente, che è la casa di tutti. Ecco, è importante, è veramente importante ragionare in questi termini e quindi quali sono gli attrezzi? Gli attrezzi sono quelli di una non violenza, attenzione, non pensate alla non violenza come il bonton, no? Dirsi le buone parole, la buona educazione. La non violenza è qualcosa di strutturale. Noi pensiamo che la pace sia la naturale raggiungimento di una non violenza strutturale che può partire solo dal disarmo. Ecco, quindi diamoci delle situazioni che sono sociali, che sono strutturali ed è stato importante partire anche con l'esempio del sindaco di Bologna, della vicepresidente della regione Emilia Romagna, perché al di là del colore politico sono le istituzioni, sono le case comuni che dobbiamo costruire insieme e questi sono gli attrezzi. E gli attrezzi sono fondamentali. Se noi ci dotiamo solo di armamenti, tenderemo a rispondere tutto in termini di armamenti. Io faccio sempre questo esempio, un po' stupido, ma spero che vi possa essere utile per capire. Se in casa ho un martello, lo userò per tutto, per cercare di sistemare qualsiasi cosa, anche per magari mettere una vite nel muro, mentre invece un cacciavite sarebbe molto più utile. Dotarsi degli strumenti utili è la precondizione per costruire la pace. E allora cosa andiamo ad aggiustare, secondo voi? Voi che parlate di pace, di disarmo, non è mica facile per una persona di tutti i giorni impegnarsi. Dice, io adesso lavoro per il disarmo. Ok, ma che poi? Ce ne sono tante di cose che si possono fare, proprio perché noi pensiamo a una pace positiva, non una pace che sia solo l'assenza di guerra, ma sia la pienezza dei diritti. E in questo senso ricostruire e restaurare, come dici tu, è fondamentale, perché i diritti non sono gli stessi in ogni latitudine e non sono gli stessi in ogni tempo. Quindi dobbiamo continuamente recuperare questa cosa, continuamente ragionare in questo senso, continuamente custodire la democrazia, ad esempio, che non è data per scontata. Tante cose che per noi sono normali non lo erano tanto tempo fa. E allora dotarci di alcuni strumenti, noi ne proponiamo alcuni. Vogliamo ragionare su non incidere sulle guerre? Ragioniamo sul non esportare, già stato richiamato da Elisla, e non esportare i sistemi d'arma italiani a paesi che sono in conflitto, a paesi che vivono i diritti umani, a dittature. Purtroppo ne esportiamo ancora tanti. Deconstruire questo percorso, una delle nostre campagne principali da tanto tempo è la campagna banche armate, cioè una campagna che vuole spostare i nostri soldi da un'economia di guerra a un'economia di pace. Togliere risorse alle spese militari. Purtroppo noi abbiamo lanciato un'idea di fare una moratoria per un anno dei 6 miliardi di nuove armi che l'Italia comprerà nel 2021 e destinare alla sanità o alla scuola. Non è stato possibile, è stato votato il bilancio dello Stato, ma noi continueremo a chiederlo, come lo chiede da tempo Papa Francesco, come lo chiede da tempo il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. Solo il 10% delle spese militari in meno ogni anno ci farebbe raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Vuol dire mai più fame, mai più malnutrizione, mai più non accesso all'istruzione. Dei risultati che ci sembrano lontanissimi, ma che sarebbero davvero costruibili con un percorso concreto di scelte di questo tipo di disarmo. E per finire, una campagna che abbiamo lanciato da tempo e che riproporremo all'attenzione di tutti nel 2021 che entra, proprio per darci di strumenti nuovi. La campagna per un'altra difesa possibile. Vogliamo che anche in Italia, dove è riconosciuta come diritto o dovere di ciascun cittadino, quello di difendere la patria anche con mezzi non armati e non violenti, ebbene, noi non abbiamo una casa per farlo. Non abbiamo un dipartimento della difesa civile in un'armata non violenta. Qualche anno fa abbiamo fatto una legge di iniziativa popolare, l'abbiamo riproposta con una petizione costituzionale al Parlamento, abbiamo appena incontrato la Presidenza del Senato, incontreremo il Presidente della Camera a breve. Ecco, noi vogliamo dotarci di questa casa, perché in quella casa, con i Corpi di Civile di Pace, con il Servizio Civile Universale, con l'intervento non violento nei conflitti, di cui ne parlerete anche dopo, ecco, noi davvero potremmo costruire pace, costruire i diritti per tutti, quella pace positiva che tutti sogniamo, che è il sogno di Isaia, di spostare quelle che sono le spade a farle diventare aratri, ma è un sogno vero, concreto, non utopistico. L'utopia è quella di cercare di portare la pace con le armi, no, la pace si porta con i diritti, con tutta la possibilità per tutti di vivere e con quindi una costruzione di comunità sempre più forte. E la verità è che la notte è ancora lunga, molto lunga, lunga perché dal virus è possibile guarire, ma non saremo mai guariti del tutto se continueranno a diffondersi indisturbati nelle nostre società certi terribili virus del cuore, dell'anima e della mente. Lo sapete bene, tanti egoismi, indifferenza, individualismi. Non saremo mai guariti se le nostre società continueranno ad essere aggregazioni di io, io, separati e in lotta fra di loro, invece di comunità, comunità dove il bene di uno è veramente quello di tutti. Sono in questo senso un'unica cosa. Siamo adesso veramente in trepidante attesa dei vaccini, di soluzioni farmacologiche, allo stato d'angoscia e d'incertezza che ci perseguita da mesi. Ma ancor meno di prima sembriamo fare attenzione all'olocausto di vite e di speranze che si consuma ai margini nelle periferie dell'Occidente. Migranti che continuano a morire, poveri che continuano ad arrancare, bambini che continuano a soffrire. E mentre noi eravamo impegnati a capire con chi avremmo potuto passare le feste, mentre eravamo seduti alle nostre tavole la vigilia di Natale, due naufragi, gli ennesimi sono caduti e quasi sono passati in sordina. Uno all'argo della Libia in cui sono morti quattro bambini e un altro pochi giorni dopo all'argo della Tunisia, 20 è il numero delle vittime, 19 erano donne, 4 di loro erano incinta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.